L'esperienza del programma è stata di valore perché mi ha permesso di scoprire il mondo di ABB dall'interno, sia dal punto di vista tecnico per osservare da vicino la mia mentor nel suo ruolo di manager, sia dal punto di vista dei valori come la cura per le persone che ci lavorano e l'impegno costante per temi come la sostenibilità e l'inclusione. Durante questa esperienza ho avuto la possibilità di comprendere appieno il mio valore sia in ambito professionale che personale, grazie ai vari incontri che ci sono stati offerti e grazie soprattutto al contributo della mia mentor che è sempre stata disponibile e aperta ad ogni mio dubbio. Il rapporto con la mentoring è stato molto bello perché ho ricevuto dei consigli pratici su come affrontare la ricerca del mondo del lavoro e su come affrontare dei colloqui lavorativi. Inoltre è stato molto interessante conoscere una professionista in ambiti simili a quello che mi interessa per il mio futuro. Ho apprezzato molto la scelta degli speaker per gli interventi a cui ho assistito. Gianna Martinengo per la sua grande competenza in ambito STEM e per il suo prezioso esempio e Cristian Fracassi per il suo talento, il suo coraggio e il suo continuo impegno per l'innovazione. Sono felice poi di aver conosciuto altre ragazze con background STEM che hanno partecipato con me a questo percorso. Le soft skills che mi porto a casa da questo percorso sono la capacità di comunicazione e public speaking, quella di ascolto e di lavoro in gruppo. Io consiglierei di partecipare a Sustainable Talent Program perché ho avuto l'opportunità di conoscere una grande azienda e come funziona. Inoltre ho avuto l'opportunità di scoprire quali siano le soft skills interessanti per una grande azienda come ABP.